Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse, ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro, che cosa cercate? Gli risposero, rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui, erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Buongiorno! Nel contesto del Natale, che è il tempo della manifestazione in questo mondo di Dio, non dobbiamo pensare solo ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, raccontati da Matteo e da Luca, ma dobbiamo tenere in considerazione anche l'inizio della sua predicazione pubblica, che in modo particolare evidenzia appunto l'epifania della sua presenza. Per questo la Chiesa ci offre oggi una delle pericopi più belle di tutto il Vangelo, l'incontro fra Giovanni e Andrea e Gesù. Era da secoli che l'uomo aspettava che Dio venisse a salvarlo, ed un tratto il profeta Giovanni punta il dito tra la folla dicendo, ecco, è lui. Molti hanno visto la scena, ma soltanto in due lo hanno preso sul serio e hanno cominciato a seguire quell'uomo verso cui l'indice del Battista si era fermato. L'agnello di Dio. Che cosa avrà voluto dire Giovanni? Per i primi due discepoli poco importava capire ogni cosa. L'importante era non lasciarsi sfuggire l'occasione di conoscerlo. Maestro, dove abiti? E Gesù li sorprende con la formula più importante e vera di tutto il cristianesimo. Venite e vedete. La cosa li colpì talmente tanto che a distanza di anni l'evangelista scrivendo si ricordava anche l'ora esatta in cui tutto ciò avvenne. Erano circa le quattro del pomeriggio. Questo Vangelo, che racconta un fatto storico realmente accaduto, condensa in sé l'esperienza che miliardi di persone hanno avuto nella propria vita lungo la storia. All'origine dell'essere cristiani, diceva Benedetto XVI, non vi è una formula o una regola morale. Si è cristiani soltanto perché si è incontrato Cristo e gli si è andati dietro. Questo vale anche oggi. Interroghiamoci sulla natura della nostra fede. In cosa crediamo? In dogmi? In regole morali? In sentimentalismi o tradizionalismi? O piuttosto la nostra fede si basa su un incontro reale con persone reali seguendo le quali la nostra vita cambia? Io posso dire con certezza quando per me questo Vangelo si è realizzato la prima volta. Era il 6 settembre del 1996 ed erano circa le tre del pomeriggio. E a te quando è accaduto?